Nessun rischio, l'acqua per le docce C non è previsto alcun razionamento idrico per l'utenza domestica di Foggia e della sua provincia. L'acqua scorerà normalmente dai rubinetti di casa grazie alla riserva della diga di Occhito, 50 milioni di metri cubi di acqua necessari per le abitazioni daune. La rassicurazione viene dalla sindaca di Foggia Episcopo che nelle scorse ore ha incontrato i vertici del consorzio di bonifica di Capitanata e delle associazioni di categoria. Il conforto per le famiglie è arrivato proprio dagli interlocutori che hanno ribadito l'occulata gestione e la ripartizione delle risorse idriche disponibili tra quelle destinate ad uso domestico e quelle per l'uso irriguo, rimarca Episcopo dopo il vertice cui ha preso parte anche le assessori alle attività produttive e le politiche agricole frattarolo. Il dramma invece sarà per i campi. Dal 13 verrà sospesa l'irrigazione con conseguenti danni ingenti per i raccolti. In attesa delle piogge chimere in questa estate infuocata, prima che alla riserva di Occhito ai minimi termini si esoprisca, l'ipotesi a breve termine appare quella del collegamento Molise-Puglia con la necessità di far incontrare i rappresentanti istituzionali delle due regioni, ovvero predisporre un accordo di programma per la costruzione di un nodo idraulico da 10 chilometri di lunghezza da realizzare al confine con il Molise per portare in Puglia i milioni di metricubi eccedenti che oggi vengono sversati in mare, in attesa che si sblocchi l'iter per la costruzione della nuova diga a piano dei limiti, un progetto in sospeso da anni.